Allora, adesso parliamo della sostituzione. La sostituzione è disciplinata al capo quarto del titolo terzo del secondo libro sulle successioni, no, le cose civili. Quindi il titolo terzo qual è? È il titolo dedicato alla successione testamentare. E quindi il capo quarto disciplina la sostituzione perché, come abbiamo detto già in precedenza, abbiamo accennato, la sostituzione si applica solo nel caso in cui il testatore l'abbia specificamente prevista, e quindi rientra, diciamo, un istituto che rientra appunto nelle regole sulla successione testamentare. E può essere di due tipologie la sostituzione. Ci può essere la sostituzione cosiddetta ordinaria e la sostituzione invece cosiddetta fede commissaria, che in passato ha avuto un ruolo comunque non indifferente nell'evitare, insomma, lo smembramento del patrimonio ereditario. Oggigiorno invece si applica solo nel caso dell'articolo 692, che è un caso appunto specifico che descriveremo appunto appena avremo descritto caratteristiche della sostituzione ordinaria. Allora, sostituzione ordinaria. Innanzitutto, abbiamo detto di essere disposta al testatore. Che cosa prevede? Prevede, diciamo, consente al testatore di scegliere un soggetto o più soggetti, perché i sostituti possono essere uno o più soggetti, che si sostituiscono ad esempio a un'erede, nel caso in cui appunto dicevamo questo, l'erede, non posso o non voglio accettare. Quindi se il testatore ritiene che magari un'erede possa, magari non accettare o non voglia, o magari è assente, spera che torni, quindi lo sostituisce l'erede, però c'è il pericolo comunque che appunto al lato dell'apertura della successione sia ancora assente, eccetera eccetera, insomma, se si vuole oppure se si vuole premonire per ogni circostanza, il testatore può nominare un sostituto appunto nel caso in cui un erede specifico non voglia o non possa accettare. Quindi il testatore ha questa facoltà di nominare un sostituto o più sostituti, quindi un sostituto che si sostituisce all'erede che non può o non voglia accettare, oppure se questo non può o non voglia accettare magari può nominare più sostituti che pertanto succedono in quella quota e si suddividono pertanto con la quota. Quindi diciamo, un sostituto può succedere, o più sostituti possono succedere a un erede che non possono voglia accettare, o viceversa un sostituto può succedere a più eredi, perché il testatore può stabilire un sostituto, ad esempio, se l'eredetizio non può accettare, e quindi lo scrive nel testamento sia istituito Caio se l'eredetizio non può accettare. Però, diciamo che questa disposizione, stando appunto le regole contenute nella disciplina di cui è il capo quarto, del terzo titolo, in pratica evidenziano la figura del sostituto anche nel caso in cui non solo Tizio ma altri eredi non possono voglia accettare, a meno che il testatore, come ha facoltà, non specifichi che Caio deve andare a sostituire Tizio, e solo ed esclusivamente Tizio se Tizio appunto non vuole o non può accettare. Quindi, che cosa ho detto adesso in questo frangente? Sto appunto dicendo che, in pratica, il testatore ha la possibilità di nominare un sostituto e può decidere se questo sostituto, diciamo, deve sostituirsi all'erede specifico e se invece appunto un altro erede magari non può non voglia accettare, invece non viene considerato. Ecco, però, in questo caso, diciamo, per fare ciò deve specificare, perché altrimenti si parte dal presupposto che anche se, diciamo, come formula letterale il testatore ha appunto stabilito che Caio è sostituto di Tizio, in ogni caso si presume che sia sostituto per ogni altra eventualità, quindi anche nel caso in cui gli altri eredi non possono vogliono accettare. Però, spero di essere stato chiaro, e quindi questo conciò si denota come un sostituto possa appunto sostituirsi a più eredi, no? A meno che appunto testatori non specifichi, no, solo appunto per quell'erede. In quel caso, chiaramente, la sostituzione non vale, per gli altri eredi si applicheranno le regole sulla rappresentazione, ad esempio. Poi, diciamo, questa è la sostituzione ordinaria, no? Poi c'è la sostituzione fede commissaria. La sostituzione fede commissaria, ecco, c'è ancora qualcosina di... appunto questo capo quarto, diciamo, è suddiviso in due sezioni. La prima è dedicata alla sostituzione ordinaria, la seconda è la sostituzione fede commissaria. Ecco, la sostituzione fede commissaria è una sostituzione che, come dicevamo, in passato ha rivolto un ruolo piuttosto rilevente nell'impedire i fenomeni di frazionamento del patrimonio ereditare, cioè, appunto, lo smembramento dell'eredità che, per effetto della successione, in linea di massima, è destinato a, appunto, smembrarsi nel giro di poche generazioni. Quindi, quando c'è anche un ingente, diciamo, quando il patrimonio ereditare comunque ha un valore ingente, comunque, proprio per effetto di come strutturarsi tutta la successione, in pratica è comunque destinato a smembrarsi, a disgregarsi, ad erodersi, no? Il valore, appunto, dell'eredità nel giro di poche generazioni. E, invece, in passato, la sostituzione fede commissaria ha consentito, appunto, di evitare lo smembramento del patrimonio ereditare, per cui si avevano grosse risorse, magari patrimoniali di famiglia, che, per secoli, venivano tramandate da una famiglia all'altra. Proprio per effetto, grazie all'istituto della sostituzione fede commissaria. Quindi, cosa si faceva? In pratica, grazie alla sostituzione fede commissaria, si creava una catena di successori, di eredi, che, però, non potevano utilizzare, diciamo, le sostanze, appunto, riconducibili al valore dell'eredità. E, quindi, diciamo che venivano meno, insomma, veniva meno, chiaramente, con la sostituzione fede commissaria, che vi spiegheremo, viene meno un po' la possibilità di utilizzo del patrimonio, quindi con l'effetto benefico che, generalmente, si associa, appunto, all'acquisto dell'eredità, no? Per l'erede. Perché? Perché, appunto, la sostituzione fede commissaria prevede che il decuius A, soggetto A, istituisca erede B, però, appunto, con sostituzione fede commissaria a C. E, quindi, questo cosa fa? Comporta l'obbligo per B di conservare e poi trasferire il patrimonio ereditario all'erede C. Tutto questo senza erodere, appunto, il valore, appunto, della massa ereditaria. E, quindi, questo fa ben capire come potesse conservarsi il patrimonio, appunto, di famiglia per intere generazioni, anche per secoli, grazie proprio alla sostituzione fede commissaria, se non che tutto ciò, chiaramente, è l'inconveniente, quindi veniva meno l'effetto, appunto, di frazionamento del patrimonio ereditario, però, al contempo, tutto ciò comportava, comunque, sul piano dell'efficienza economica, l'immobilizzazione di risorse economiche che non venivano utilizzate, che non venivano sfruttate. E, pertanto, oggigiorno, questo, diciamo, questo meccanismo di catena, appunto, degli eredi, via di sostituzione fede commissaria, invece, non è più consentito. E la sostituzione fede commissaria rimane, invece, consentita solo nell'ambito, appunto, della situazione stabilita, definita, insomma, nell'articolo 692, che evidenzia una situazione, invece, riconducibile all'interdetto, per cui, quando l'erede è l'interdetto, è persona interdetta, oppure è anche un minore che si ritiene che possa, diciamo, comunque disabile, che, pertanto, non è stato sottoposto a interdizione, perché, comunque, soggetto alla patria potestà dei genitori, ma si ritiene che, diciamo, al raggiungimento del diciottesimo anno, o entro due anni, comunque, non di più, sia comunque promosso nei suoi confronti il procedimento di interdizione, o anche nel caso del coniuge eventualmente interdetto, l'ordinamento giuridico consente, appunto, al decuyus, di testare, in via di sostituzione fede commissaria, in modo tale da lasciare i beni, appunto, all'interdetto, ma, al contempo, indicare anche un altro soggetto, appunto, soggetto C, che è, in pratica, l'istituto, di assistenza, o comunque il tutore, o chi si occupa, comunque, dell'interdetto. E quindi è una sorta di, diciamo, di trasferimento, per cui, che consente, diciamo, appunto, al tutore, in pratica, di svolgere operazioni patrimoniali sulla massa dei beni ereditari, però, con, diciamo, quei controlli tipici, ad esempio, della tutela, che, comunque, diciamo, impongono la richiesta, insomma, e l'autorizzazione, appunto, del giudice. E quindi è una situazione, in per certi versi, assimilabile, insomma, all'amministrazione da parte del tutore, di parte di un'ordidità. Noi fatti, in realtà, il tutore, o lente assistenziale, diventa erede, no? È l'erede che poi, alla morte, ad esempio, del figlio, riceve, appunto, patrimonio, in un certo senso, a titolo di compenso per essersi preso cura delle erede. Però, poi, nei fatti, insomma, dipende, insomma, dalla situazione. Comunque, la situazione prevista, insomma, dall'ordinamento giuridico per la sostituzione fede commissaria, oggigiorno, appunto, è solo ed esclusivamente questa, delineata, disciplinata nella seconda sezione del capo quarto, del titolo terzo del secondo libro di Cosa Civile, ovvero, appunto, la sezione dedicata alla sostituzione fede commissaria. Adesso parliamo, invece, della rappresentazione.